Non basta una tristina coriacea e battagliera per battere la capolista Padova che nell'anticipo del venerdì ha confermato il suo trend vincendo in casa proprio contro il Rosso Labardati. L'Unione ha interpretato al meglio la gara senza farsi intimorire e anzi proponendosi in avanti già al terzo minuto con un grosso di Bracaletti che incontra la testa di Troiani, bravo a colpire un pallone poi deviato dalla retroguardia veneta. Al primo affondo il Padova colpisce. Tabanelli viene servito da un compagno dopo un'azione partita da sinistra complice anche a un liscio dei Giuliani e il suo rasoterra indovina l'angolo spiazzando il portiere e ospite. Ancora locali pericolosi prima con un pallone profondo e una conclusione a Palombella che sfila alla sinistra del palo poi al 27esimo con unnesimo tentativo dalla sinistra che comporta però un cross troppo fuori misura. Pochi minuti dopo la Trestina corona la buona partita disputata fino a quel momento da calcio piazzato scodellato da Bracaletti e Meduri ad alzarsi più degli altri colpendo a rete. E il gol galvanizza la Trestina che al 40esimo si lancia ancora in attacco rubando palla agli avversari e portando arma al colpo di testa in mezzo all'area con tanto di volo caparvio del portiere per deviare. Per poco poi lo stesso Padova non si autopunisce al 43esimo con una deviazione beffarda che però è bloccata da Bindi. Il primo tempo si chiude 1 a 1 con una Trestina molto propositiva che riapre il secondo tempo con un paio di calci d'angolo insidiosi costringendo la difesa bianco scudata a mettere una pezza. Il Padova al 62esimo raccoglie la sfera a centrocampo per poi scatenarsi sulla destra e arrivare al raddoppio con Capello che di testa ottimizza il cross di Marcandella. L'agonismo dei bianco scudati mette in crisi le certezze degli alabardati tenuti a distanza in un certo senso per inerzia con le grandi qualità fisica del Padova. Nel finale si vedono quasi solo i padroni di casa ma la Trestina stanchissima ci prova comunque fino all'ultimo sfiorando il pari del primo dei 5 minuti di recupero con una stupenda girata al volo di Troiani. Il suo cross di Libutti la sfera esce di un soffio ben dibattuto. Finisce così con il Padova che con qualità e cinismo ha ottenuto il bottino pieno. La Trestina esce a testa alta forte anche delle azioni prodotte nell'arco dei 90 e passa minuti restando a 18 punti.